Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano Dardine 15 a Tripanda. Lo scempio al di sotto del ponte della variante in via Cupamacchia finisce nel mirino delle guardie ambientali rurali Irpin. La discarica era stata segnalata più volte anche attraverso i nostri servizi nel telegiornale. Una denuncia finita sempre nel vuoto. Le barriere di indifferenza sono state invece infrante stamani dalla pattuglia delle guardie ambientali che allertate da alcuni residenti sono intervenuti sul posto per documentare i veleni che minacciano la zona particolarmente ricca di nocelleti a un passo dalle acque del torrente Fenestrelli. Jonathan De Masi, capo pattuglia della vigilanza zoofila delle guardie rurali ausiliari. Avete segnalato questo scempio che c'è tra l'altro a pochi chilometri dal centro di Avellino? Sì, in pratica noi su segnalazioni di alcuni cittadini ci siamo regati sul posto conducendo che comunque la nostra associazione è un'associazione del settore provinciale, opera in tutto il territorio di Avellino, munito di guardie con decreto prefettizio. Diciamo che la maggior parte delle nostre competenze sono le attività zoofile, controlliamo chi va a funghi, tutte queste cose qua. Adesso chi segnalerete? Niente, noi in pratica diciamo che alcuni cittadini ci hanno segnalato che ogni tanto vengono a scaricare su questa zona, noi adesso ci siamo regati sul posto, oltretutto facendo anche altre attività di vigilanza nelle nostre funzioni e abbiamo riscontrato tutto questo materiale vegetale, plastica e quant'altro. Adesso diciamo questo qua noi lo portiamo in sezione, facciamo un resoconto della situazione e poi viene tutto comunicato agli organi preposti. Avete trovato anche dell'amianto nella zona? Sì, facendo altri giri in zona abbiamo trovato anche delle pannellini, si presume di amianto, nonché anche delle carcasse di elettrodomestici. Voi chiederete comunque la rimozione immediata, in tempi brevi? Sì, questa qua la segnalazione viene fatta al comune preposto della zona, di cui poi sono loro con personale incaricato a verificare prima se la proprietà è privata, se è una proprietà pubblica e altro.